Un posto al sole, il segreto di Anita e il ritorno di Beatrice, ecco quando nuovi sviluppi sono in arrivo nella storica e amatissima Soap Partenopea, scuoteranno i protagonisti. Durante le puntate che sono state trasmesse, Vittorio del Bue, sempre più invaguito della bella Anita Falco, convintosi che la ragazza lo tenga a distanza perché già fidanzata, la segue scoprire che la ragazza conosce e frequenta Luca Grimaldi. In seguito alla sua scoperta virgola ha un duro e acceso confronto con la ragazza, durante il quale Anita gli svela la vera natura del suo rapporto col poliziotto e gli racconta la sua delicata storia di vita etichettando Luca come colui che l'ha salvata dalla tossi. Codipendenza distruttiva della sua mamma, scomparsa per questa ragione. Vittorio, dopo lo scioccante racconto di Anita e dopo una iniziale confusione, finirà per rivedere le sue convinzioni su Luca Grimaldi. Il settimanale Nuovo Televisione ha inoltre svelato che la giovane Anita Falco, oltre al suo legame con il poliziotto Luca Grimaldi, custodisce un ulteriore segreto che ben presto potrebbe concretizzarsi. Per le anticipazioni.